Sono Flavio Farè, lavoro nei dintorni di Novara e la mia passione è sempre stata costruire armi, sia da caccia che da tiro. Qui vediamo una carrellata di armi da caccia, dalla carabina da safari, a carabine da camosci, poi abbiamo il basculante che abbiamo fatto pensato al gallo cedrone. Questa è la bascula di questo basculante, vi posso far vedere la batteria smontabile a mano, che è questa, è montata su rubino, questo è il cane, questa è una molla a V, la chiusura è a serpentina, doppi ramponi boss, il materiale è in 17,4 pH, totalmente inossidabile, poi abbiamo l'altro tipo di scatto che è questo, montato su rubini, questo è il funzionamento, questo è uno scatto dolcissimo, si può arrivare a 150 grammi senza steter.